Ciao a tutti Artmade Games, io sono Joostar e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi siamo su Far Cry Prime Ok, quest'oggi le salveremo da, l'ultima volta l'avevamo lasciato che l'avevano catturato, il comitato di benvenuto di Winga E non si sa che cosa vuole, cioè si sa e non si sa, che vogliono fare, me la fa culo lupi, me la fa culo lupi, me la fa culo, aia Oh, pezzi di merda Oh E ora se vi basta voglia, ti ho Ah, stai schiaffato, eh Ok, stavo facendo caso prima, mentre sono entrato, che potevamo costruire la bomba della pazzia Che è santa Abbiamo delle bombe, cazzo delle fottute bombe E va a fa culo, un altro gruppo dellupi Ok, vediamo qua, se si uccide, uccidi un invasore e cattura, e salva il Winga Ok, saliamo qui sopra, dobbiamo andare lì Uno, e due E due Ma mia, se so l'Iver Queen Allora ci metto Allora, dove mi caccia l'orso Non ti dà fattito, vai vai vai, uccidi, uccidi orso Balu è Ok, saliamo qui sopra, dobbiamo andare lassù Ah, merda Che paura Che paura Ora Mi sta facendo leggermente male, eh, ma leggero, leggero Caccia 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 moriii mamma mia che paura allora ok sta andando pure dalla parte sbagliata mamma mia mamma mia ok lì che sta succedendo mamma mia se non so lì per queen ma che animali ci mancano ok tocca la sbocca abilità per il tasso e quell'altro questi sono animali di sangue lupo striato raro lo stiamo per trovare dai non ho più i coglioni che falle dai non ho più i coglioni animali lo fate and avanti col gioco sbaglio era un cervo raro quello no non ho sbaglio affatto quello lì su bianco è un cervo raro se lo valla prende in mezzo a tutti questi cattaroglia eccolo eccolo quelle vede dai coglioni dovrebbe morire il sanguato eh eccolo ok non mi ha salvato valli no no c'è c'è che a tutti è solo un botto giù oh c***o c'è un barracuda lì che arriva ok e uno l'ho collocato ma gli altri come lo faccio? se lo lascio o non faccio? ma questi magari nuotando ci arrivo ok io penso che lo devo rompere ok non è quello che è carino ah eccolo ma appena sale l'acqua devo collocarlo sparlaconda stai giù stai giù c***o sì chéolo e si O la peste, il sogno io lo posso Micchia Micchia Tagar Facciamo le mani Ok, eccoci qui dopo aver salvato Da Siamo di nuovo qui al villaggio Allora, sto pensando di far salire di livello Questa cabanna E la cacciatrice Eccola Che c'è dal doppio arco e ho un bel po' di esperienza Ok Sbaglio sulla Ma al fianco c'erano delle carni Ah, vedi Interessante Allora, vediamo qui che c'è da fare Fa un sacchetto Ok, ero indeciso tra chi fare 3 e 2 Tra Questo Tra lo sciamano e Ta Io penso che Ta che è una missione molto vecchia Che da tanto tempo Ta da sbloccare lì su Da Yudam Non ci ho mai fatto caso Quindi mi sa che siamo indietro con Ta Quindi volevo portarla avanti Quindi andiamo E poi ci insegna come usare le erbe male La mala erba E poi ci insegna come usare le erbe male E poi ci insegna come usare le erbe male Basta così Ah, abbiamo sbloccato le abilità degli Udam. Ci siamo, intanto sono tutti oggetti di rinoceronte raro, ne serve uno, quindi va bene, miglioriamo. Ok, così abbiamo portato al massimo la capanna di D'A, continuo alla storia di D'A, ok, quindi ci mancano un livello a stracapanno, un livello a Carrosh, a Takar e a Roshani che non so chi sia. Subisci meno danni dagli animali e dai colpi fa fa il corpo dei nemici, inoltre c'è la probabilità che venireste sia da nemici. Buono, abbiamo un puntabilità, usiamolo per qualsiasi di uno, così naturalmente giuro. Pensiamo nella capanna. Pazzito. 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 sono pazzi tutti i due polvere di osso ma scusate ma è la cucina usano la polvere di osso come droga per calmarsi per plagare la febbre ti dà ah ok 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 anche se ho una foglia pazzesca tantana terra di utam e domina e uccide ul forse però facciamo questo andiamo a trovare la polvere di ossa per fermare la sua febbre anche se ho pensato malissimo pensavo che la polvere di ossa fosse tipo la droga per calmarlo va boh 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 ok andiamo è una strada non si vede poco e nulla ok devo stare attenta e tra poco entrerò una terra delle tigri denti lunghi e dei mammut vento completato ma ora scappo minchia minchia merda 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 abbiamo un problema abbiamo piccolo problema questi stronzi dei wind prima di attira aiuto hanno attirato il mammut aiuto vai vai scivolo scivolo ea via verso l'infinite ed oltre la malamacchia ok 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 quello dovrebbe essere un orso delle caverne io se non sbaglio esatto ho sblocato prima quindi potrei controllarlo tranquillamente no ma orso è tranquillo il russolone no orso è bruno vaffanculo oh boh sto portando a testa eh polvere di ossa ma che guaritore di utam che si fa la polvere di ossa che serve a ta ta ok alla quindi no no anzi cambiamolo ecco 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 non ricordo mai nella vita come si chiamava il buco ok ok corpo a corpo c tiro tiratore lì in mezzo c'è sta il curatore corpo a corpo corpo a corpo il giro il sangu il sangu il sangu è in mezzo stiamo compando la faccio ok ora è nascolato ora questo si posi si 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 ok mi sa che hanno visto il cadavere che li vedo belli e agitati vai tigre ok questo che carica carica quello laggiù la star d'ha tirato la bomba e quell'altro l'ha attivato che brutta allarme uccidili tutti dai merda che pezzo di merda me la tirate in una roba in faccia si c'ho bisogno che frecci e c'ho bisogno che sia un po' che è un po' ma non riesco a capire dove da lassù questi pezzi di merda è qui lassù non sta qua più di mignotta ok fai il culo e qua dove stai cifre mi interessa fai il culo no sono stai cifre pezzo di merda con la cazzo di granate dai mamma che macello che è a tirare le frecce con questa mannata assordita ma la uccida non voglio interferenze ucciderne tutti argilla del nord argilla del nord andiamo qua niente vediamo questa capanna che male qua nulla nulla ti prendi dalla carne che c'è bisogno di cure tanto io sto portando una freccia un po' casa in giro ok allora qui vediamo oh nulla qua la nulla lì su c'è il fuoco nulla ok niente se ci scese togli te tigre ok deve stare qui dentro quindi povera cosa la montigre abbiamo fatto il nostro lavoro voglio una tigre spericolata è vero questo va così io ecco la tigre mezzo l'infinito ed oltre dovremmo portare la polvere d'ossad il nostro amico il nostro amico il nostro amico ta come salti c'è a sugo e qui c'è da vado vado poi dice salsiccio a sugo pensi eh vedi dice salsiccio a su allora ragazzi il video finisce qui spero che vi piaccia e noi ci vediamo in un prossimo video ciao